Pronto? Monsignor Gabriele Maschirongo, un momento sempre molto particolare, anche quello del sorteggio. Sì, in effetti il sorteggio è il primo momento della festa di San Basso ed è un momento molto atteso soprattutto dagli armatori e dai pescatori perché tutti ci tengono ad essere la barca sorteggiata per portare il santo.